Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi voglio parlarvi finalmente di uno dei set migliori e più belli che siano mai stati fatti quando eravamo piccoli In edicola di Magic, una delle cose più belle maeste Prima di iniziare come sempre vi metti a scrivere il nostro canale Prima di tempo giocati con il mondo di Yuke Non solo grazie mille parlo dell'edizione Asset del 2006 di Magic Che usciva in edicola ovviamente, erano le uscite ogni due settimane mi pare Usciva una porzione di mazzo diciamo Allora spieghiamola meglio Prima uscita, partiamo con la prima uscita 2,90 euro Non ricordo che ero a mattino perché 2,90 euro Pacchetto del nono set base nella nuova edizione 12 carte di un mazzo Gli inserti, gli inserti che erano qualcosa di veramente bellissimo Spiegavano tutta la storia di Magic, la Hall of Fame, come funzionavano i tornei, quanto si guadagnava La storia, le lore, i segreti di tutte carte Era un qualcosa di veramente assurdo E il gioco per PC Quindi a 3 avevi un pacchetto Gioco PC, 12 carte del mazzo Inserto e tutto il resto Uscirono poi altre Altre con dei raccoglitori Raccoglitori con lo spettro ipnotico e l'angelo di Serra Dove potevi mettere Sia i fascicoli e sia le Diciamo Con gli a 9 Le foderine a 9 I fogli Non riesco a spiegarlo Vabbè l'album insomma Che era molto particolare Perché erano Era di plastica Ma era tipo bella dura Intacci su No poi mettere carte era macello Comunque queste uscite Ogni volta un deck a tema Mannaggia Quei cacchio di elfi C'erano Arcani Ratti Il primo mi pare che erano Dei ratti mi pare Rodimi dollo Perché comunque era contemporanea Cioè era uscito Non le ristampe anche di Kamikawa Quindi c'erano i mazzi Spirito Arcani C'erano gli elfi C'era il mono nero Con spacca inferno C'erano la carta Com'angelo di Serra Spettro ipnotico C'erano queste carte così particolari Il mazzo tramutante Quindi ogni totto C'erano 12 carte Per completare questi mazzi E noi ai tempi Pensavamo che erano Dei mazzi fenomenali Invece no Riguardandomi La lista delle carte C'erano tipo uno Uno per Due per di roba E tipo come Non ho mai visto Un 4 per in questi mazzi Com'è possibile Erano sbroccatissimi C'erano il mazzo elfo Con l'avventata Con l'auger Campione elfico Di tutto rispetto Invece no Invece no Comunque Poi gli tramutanti Lasciamoli perdere Comunque Era bellissimo Perché tu avevi anche Il gioco del computer Che era Vabbè un tutorial Però tu intanto Potevi tranquillamente giocare Era qualcosa di Nel 2006 Poi quando magari Non tutti avevano internet Avere l'enciclopedia Di magic Era qualcosa di veramente Assurdo Poi ogni volta Dei pacchetti In omaggio Quindi Già la prima uscita Era un plus Devastante Perché Già c'ha 27 carte Perché Erano 15 Ma 15 le carte Non è che erano tipo 15 carte 12 carte In quelle 15 carte C'erano Tre pedine Una carta pubblicitaria No Erano 15 Ma erano 15 Più comuni Però c'erano Era veramente Un qualcosa Di bellissimo Io avevo Tantissime uscite Ma ne ho tantissime Non l'avevo mai Mai finito Però Ma ne avevo tantissime A un certo punto Poi mi sono interromto Perché Non so se Non riuscivo più A trovarle O Non riuscivamo a stargli dietro Insomma È stata una delle lezioni Più belle Che abbia mai fatto C'erano anche carte Sbroccatissime Adesso non me le ricordo tutte O più o meno Me le ricordo Ma non mi ricordo i nomi Comunque è stato Uno dei set Più belli Che abbiano mai fatto Secondo me Molto triste Il fatto che Non abbiano mai più Riproposto Delle cose simili A me Fa un po' piangere Perché ora come ora Di sta roba Non uscirà mai più niente Ed è molto molto triste Detto questo Fatemi sapere voi Cosa le pensate Se l'avevate Se ve lo ricordate E appunto Cosa le pensate Se magari Un giorno Vorreste vedere Una roba del genere Dicono Non succederà mai Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti